Oggi con la chirurgia plastica possiamo risolvere tante piccole imperfezioni, ma c'è un problema che ancora non è stato risolto, per cui non basteranno delle lezioni di fitness, né un intervento di chirurgia plastica, né tantomeno dei superficiali trattamenti estetici. Il problema di cui vi parlo è l'altezza, sì, l'altezza amici miei, a tutti gli uomini che infatti ci stanno ascoltando e che non sono abbastanza alti quanto vorrebbero, da oggi l'American Center of High Stewards Division lancia sul mercato un eccezionale prodotto, il taccone, sì, il taccone, è un piccolissimo oggetto che sta dentro una tasca che risolverà il vostro problema di altezza in qualsiasi momento, è facile da usare. Ecco alcuni esempi. Al bar, quando vi affianca una donna molto più alta di voi, non sarete più in imbarazzo, basta spilare taccone dalla tasca e inserirlo comodamente sui tacchi delle vostre scarpe. E il gioco è fatto, neanche lei saprà resistere alla vostra altezza. Allora non dimenticate a casa il taccone perché, come vedete, taccone è un valido supporto per il vostro aspetto estetico. Non avete bisogno di complicati interventi chirurgici, né di passare ore in un centro di bellezza, né di faticare in palestra. Per risolvere il vostro inestetico problema oggi c'è taccone. E in omaggio a soli 999 euro avrete taccone sport. Grazie a taccone sport potrete andare veramente dappertutto e nessuna situazione potrà mettervi più in imbarazzo. Non aspettate ancora, chiamate subito. Taccone sport è un prodotto originale dell'American Center of I-Division. Non aspettate, mettetevi subito in contatto con noi per avere taccone e taccone sport. Grazie, taccone!